Una pizza fatta con del fior di latte, del pecorino dei Montessibillini, delle alici marinate e paccasassi. Dalla collina al mare. Penso che questa sia la pizza che rappresenta più di tutti la territorialità della nostra splendida regione. Le Marche in una pizza che racconta i sapori e i profumi del territorio a partire dai suoi ingredienti tipici. Torna per la sua terza edizione pizze di marca. Il tour è no gastronomico che fino al 26 settembre propone serate degustazione di pizze gourmet tra le migliori pizzerie della regione. 35 quelle aderenti al progetto proposto da Linfa, l'azienda speciale della Camera di Commercio per valorizzare le produzioni locali. Il ruolo di questo progetto è quello di far conoscere ai marchigiani e ai turisti che vengono nelle Marche i prodotti del nostro territorio. Sono prodotti eccezionali, eccellenti, sono veramente dei gioielli che abbiamo e spesso e volentieri i nomerchigiani non li valorizziamo. Perché? Perché le pizze sono farcite esclusivamente con prodotti di grande qualità delle nostre marche. Nei menu delle pizzerie aderenti al progetto ecco allora a spuntare le pizze gourmet dal sapore locale. Nell'impasto farina a chilometri zero e lievitazione di almeno 48 ore. Nella farcitura i prodotti tipici di ogni provincia, dai pacca sassi del Conero al tartufo di Acqualagna, passando per il ciauscolo del maceratese e la casciotta di Urbino. Tutti i prodotti certificati, DOP, IGP, ma anche presidi slow food, ma anche tradizionali, fanno sì che c'è una combinazione di sapori, di profumi molto molto interessanti. Perché per ogni percorso, per ogni pizza viene abbinato un vino e da quest'anno abbiamo cominciato con le birre essenzialmente agricole. Dai 25 ai 35 euro il costo dei menu targati pizze di marca, menu che raccontano ricette e tradizioni di una volta. Abbiamo proposto due tipologie, un padellino al mais farcito con il coniglio in porchetta, una tipica ricetta marchigiana e abbiamo fatto una finta vincis grasso, cioè nel senso fatto di pizza, invece di fare le sfoglie di pasta, quindi visivamente sembrava una lasagna, invece era una pizza. L'elenco delle pizzerie e delle serate dedicate alla degustazione guidata è disponibile sul sito www.linfaziendaspeciale.it